buonasera a tutti voi prima di tutto un grazie per esservi organizzati dalla base per portare la voce della base dentro un convegno della smart che praticamente sta ignorando tutto questo grazie per la vostra attenzione e per il vostro sforzo di portare avanti questo nostro impegno sull'acqua quando io andavo in giro per le scuole a parlare sull'acqua durante il referendum del 2011 referendum sull'acqua continuamente chiedevo ai ragazzi ma avete mai pensato di privatizzare vostra madre e tutti si mettevano a ridere ma il padre dice ma che domande sono mai queste è esattamente quello che noi abbiamo fatto com'è possibile privatizzare la madre la madre è fonte della vita l'acqua è la fonte di tutta la vita che c'è su questo pianeta questo dobbiamo mettercelo bene in testa oggi la scienza ce lo dice in mille maniere tutta la vita che è nata su questo pianeta è nata dall'acqua se non ci fosse stata l'acqua non ci saremmo neanche noi esseri umani tutto viene dall'acqua l'acqua è la madre e diventa fondamentale questo aspetto ricordarcelo sempre è talmente fondamentale che senza acqua non c'è vita ed è quello che papa francesco nella laudato si ha cercato di sottolineare quando dice l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale fondamentale e universale perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani e poi procede a dire una cosa incredibile continuo dicendo perché significa dice negare ai poveri l'acqua significa negare ad essi il diritto alla vita parla dell'acqua come diritto alla vita è un termine che in campo cattolico è usato per l'aborto per l'eutanasia per la bioetica il papa lo usa per l'acqua e dà ragione perché l'acqua è la madre di tutta la vita e l'acqua è il bene comune più fondamentale che abbiamo ecco perché domanda una nostra partecipazione seria persone di tutti i cittadini nella nella gestione dell'acqua è questo che ci ha spinti tutti noi a darci da fare per il referendum del 2011 che abbiamo vinto abbiamo vinto con 26 milioni di voti 26 milioni di cittadini hanno detto primo che l'acqua deve uscire dal mercato secondo che non si può fare profitto sull'acqua non si può fare profitto sull'acqua l'acqua non ha nulla a che fare col mercato mentre oggi purtroppo è già quotata in borsa è una bestemmia questa che non possiamo accettare e anche se la politica italiana dopo 11 anni ancora non ha accettato quello che il popolo vuole e noi continueremo a battagliarci su questo non molliamo vorrei fare presente a tutti una cosa importante questo spirito che ci ha spinti a fare il referendum deve darsi la spinta anche voi a torino a continuare a non mollare e voi come comune avete un bel esempio qui a napoli noi insistendo dal basso con i comitati acqua siamo riusciti ad arrivare a far sì che a napoli ci fosse una gestione totalmente pubblica come chiede il referendum napoli a napoli l'acqua era totalmente pubblica 100 per cento del comune ma era una spa società per azioni e se una società per azioni va in borsa quindi fai profitti non non ci può essere profitto sull'acqua e tono di dio viene dalla natura che tu creda o sei ateo e tono nessun multinazionale fa l'acqua e vien dalla natura e tono e quindi abbiamo detto dobbiamo assolutamente trovare una strada la strada che abbiamo trovato è stata quella dell'azienda speciale azienda speciale e quella è la legislazione che ti permette di gestire un'azienda pubblica e di gestirla in maniera veramente interessante senza fare profitti puoi fare utili ma gli utili devi investirli sull'acqua non solo ma parte del discorso di napoli che anche l'acqua non soltanto deve servire guardare a noi ma dovremmo guardare anche chi non c'è l'acqua per cui con quegli utili ricordare anche gli impoveriti del sud del mondo scavando pozzi o altro non posso in tante le le maniere questo è un esempio molto bello che napoli ha dato e siamo gratti all'amministrazione comunale di allora magistris che c'era fatto questo regale ma sotto spinta abbiamo tanto votato e anche voi continuate a lottare non mollate di un centesimo ecco perché diventa davvero fondamentale in questo momento in cui praticamente ci sta saltando che cosa ci sta saltando l'acqua la cosa quest'estate abbiamo cominciato a rendercene conto e cominciare a capire che praticamente andiamo verso la siccità ne avremmo sempre già l'acqua è scarsa ma andrà sempre più scarseggiando perché ma perché la trattiamo così male perché la usiamo così male ecco perché allora dobbiamo incominciare a capire che deve esserci una gestione attenta dell'acqua fatta dal vasso fatta democraticamente noi abbiamo sempre detto si legge acqua ma si scrive acqua ma si legge poi democrazia è parte fondamentale questo per cui in questo momento così difficile verso il riscaldamento per cui avremo sempre meno acqua è fondamentale che questo bene essenziale per la vita rimanga in mano pubblica e davvero mentre vi ringrazio di nuovo chiedo a voi di non mollare in questo impegno datevi da fare perché anche a torino finalmente possa obbedire e debba obbedire secondo me al referendum perché il popolo italiano si è espresso l'acqua deve uscire dal mercato e non si può fare profitto sull'acqua